Salve ragazzi, eccoci qui con un nuovo video ispirato a San Valentino e ho creato questa nail art molto sbarazzina, con questo viola della Cresi molto acceso che comunque volevo farla diversa, sempre rispetto al solito rosso, rosa questo viola che mi piace molto ed è un colore abbastanza acceso, molto carino e diciamo che questa nail art sarà con un cuore che andrò a fare sulla norale creato con questo pezzettino di scotch che ho attaccato su se stesso e con una forbicina andiamo a ritagliare il contorno, diciamo solo un contorno di un cuore così poi riaprendo il nostro scotch ecco che avremo un cuoricino perfetto dopodiché basta che andiamo ad attaccare questo scotch sull'unghia che vogliamo ricreare il cuore io l'ho fatto ad attaccare sull'anulare e poi scelgo uno smalto che poi voglio comunque ricreare il cuore quindi ho scelto questo bianco perché andrò a fare poi la tecnica sponge su di esso sulle altre dita invece andiamo a fare un decoro molto molto semplice ma comunque elegante che comunque viene caratterizzato da questa lineetta che sto facendo, obliqua e all'interno della linea andrò a spargere dei glitter comunque un qualsiasi smalto glitterato che avete va bene per dare appunto un po' più di luce alla nail art e anche un po' più di luce alla linea andrò a spargere dei glitterati e anche un po' più di luce alla linea andrò a spargere dei glitterati poi prendo questi smalti, questo color rosa, poi uno smalto color lilla e un altro color Tiffany chiaro e vado ad applicarli su tre parti differenti del nostro cuore quindi applico il rosa a destra, il lavanda lilla a sinistra e poi il color Tiffany, il verdino chiaro in punta e poi li vado un po' a sfumare con i pennellini poi aspetto circa 5 minuti che tutto lo smalto si sia asciugato e poi con molta cautela vado a togliere lo scotch dopodiché prendo uno smaltino dalla punta sottile e vado a disegnare le nostre stelle all'interno del cuore quindi con questo smaltino bianco dalla punta sottile grazie a tutti non vi preoccupate se il controllo del cuore non sarà perfetto perché tanto lo andremo a ridefinire con questo smaltino nero dalla punta sottile che io utilizzo della Essence una volta puliti tutti gli eccessi quindi vado a prendere lo smalto che abbiamo utilizzato precedentemente quello con tutti gli strass e lo vado a passare all'interno del nostro cuore proprio per dare l'effetto, diciamo, questo effetto reale di galassia con le stelle e con questi brillantini ragazzi la Nell'Art è terminata manca solo una passata di Top Coat e come sempre io utilizzo il mio della Essence il Better Than Genet che è strepitoso e se vi è piaciuta la Nell'Art fatemelo sapere nei commenti e seguitemi sia su Instagram che su Facebook Nell'Art Fantasy ti un bacio ragazzi ciao